un limone per prima cosa ovviamente bisogna lavarlo e non deve essere trattato deve essere un limone biologico con il bella patate togliamo la buccia non fa casino per favore buciamo il limone dobbiamo togliere completamente la parte bianca perché è amare questa si butta 180 grammi di zucchero il limone 250 grammi di farina rompiamo due uova all'interno aggiungiamo il frullato di limone 16 grammi di lievito setacciato passiamo tutto all'interno di uno stampo per plum cake e ora via in forno statico 3 grammi di lievito 4 grammi di lievito e non viaggurato comino e non risposto pescilla Il bello di decorarlo in questo modo è che ogni righina è anche una porzione di torta, no? Pareggio qui. C'è un profumo incredibile. Vediamo quanto è soffice. Morbidissimo. Troppo buono. Provatelo perché vi rannullo. E' veramente buonissimo. Mmmmm. Mmmmm. Grazie. 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 Grazie.